nuova serie di car tablet audi elite display 2k 8 giga di ram 128 giga di roma apple car play android auto ve ne accorgete subito dalla qualità del display gestione radio recupero comandi al volante possiamo andare a gestire le quattro telecamere direttamente dal comando al volante teniamo premuto il tasto ok entriamo in programmazione vedete la pioggia la goccia di pioggia premiamo di nuovo andiamo in programmazione telecamera destra premiamo di nuovo usciamo oppure possiamo andare in automatico inserendo la retrocamera usciamo possiamo personalizzare queste icone per dire vogliamo mettere cambiare un'icona togliamo google e possiamo aggiungere faccio un esempio il dsp andiamo a vedere il dsp processore sonoro andiamo a vedere maps possiamo fare una panoramica ricordiamo 8 giga di ram fantastico video 2k andiamo a vedere la qualità del processore possiamo selezionare l'immagine a secondo del formato che desideriamo possiamo eseguire lo split screen usare due app nel display e possiamo continuare a vedere possiamo anche far partire ecco qui torniamo in visualizzazione singola e andiamo avanti con la dimostrazione gestione audio e video tramite le usb play store mi raccomando tenete sempre aggiornato il play store per usare le app musica andiamo in gestione musica possiamo vedere tutti i contenuti della usb potete mettere le copertine album a secondo di come la scaricate dal computer e qui comparirà la copertina impostazioni veicolo a secondo degli option della macchina possiamo andare a gestire tutte le impostazioni del veicolo possiamo inserire una telecamera anteriore nel momento in cui il cliente decide di montarla potremo andare a visualizzare la telecamera anteriore con questo tasto gestione apertura portiere io vi ringrazio vi ricordo che tutti i nostri prodotti sono disponibili presso il nostro shop buona serata